Su questo tema ci sono un gruppo nuovo e ci sono già contatti, discussioni. A quanto mi risulta il gruppo nasce per dare un sostegno al governo. Poi naturalmente cercherà dalla sua posizione, come è normale, di condizionare anche l'operato del governo. Quindi un sostegno del governo anche da parte dei fuoriusciti di Selle? Questo bisogna chiederlo a loro perché ci sarà un gruppo nuovo e questo gruppo ovviamente nei prossimi giorni discuterà. Mi pare che oggi la ragione più importante per cui siamo qui è di ridare ai tanti elettori, cittadini, lavoratori che non si riconoscono più nel PD, nelle politiche che ha fatto Renzi, ma anche a tanti imprenditori che vogliono investire, imprenditori sani, una prospettiva nuova per il governo del Paese. Questo è il punto. Ci sono milioni di elettori che ci hanno abbandonato. A Roma lo sapete, i quartieri popolari, ma anche a Milano, ma anche a Torino. Noi vogliamo ritornare lì, vogliamo essere una grande... Il rapporto con il PD D'Alema ha detto che con lui il segretario si riaprende il piano. Orlando è una persona senz'altro stimabile. Mi pare che per occhi, come avevamo detto, tutto quello che avviene riconferma le ragioni del nostro trasloco, più che della nostra scissione. È un trasloco di idee, di persone. Qual è la ragione di fondo? La ragione è che andiamo ad una conta che servirà a rimettere alla guida del PD Renzi e poi magari a stabilire quanti posti in lista toccano all'uno o all'altro. E questo non ci interessa. Noi abbiamo bisogno di una svolta politica nel Paese.